La Lazio Calciotto ha decisamente cambiato marcia, con Stazzi in panchina sono arrivati già 5 punti e molte prestazioni convincenti. Il cambio ha portato nuova linfa vitale e bianco-azzurri, in più molti uomini assenti nella prima parte del campionato. Stanno tornando. Il mister Cardello è andato via e ha fatto bene, ci ha fatto una scossa. Adesso con il mister Stazzi ci stiamo mettendo qualcosa in più. Adesso i giocatori stanno tornando, siamo tutti, il campo si vede. Nello spogliatoio della Lazio comunque c'è molta gratitudine nei confronti di Cardella che si è fatto da parte, ma solo per il bene della squadra che ha sempre amato. Ci serviva una scossa a livello mentale, di testa, dovevamo tornare a ragionare da squadra piccola e lottare su ogni pallone, cosa che ci è mancata all'inizio. Il mister Cardella, il grande uomo qual è, ha fatto un passo indietro per cercare di far scoccare questa scintilla. La classifica sembra bugiarda. La classifica è bugiarda, non esiste che siamo laggiù. Comunque piano piano risaliremo. Anche se c'è ancora da migliorare qualcosa, soprattutto in difesa, non si può infatti sempre partire svantaggio. C'è il suo rammario che secondo me è un tiro in porta, ogni un gol, ogni volta prendiamo. Ci siamo messi lì piano piano e siamo usciti a pregiare la fine. Poi l'ultima azione, un altro po' facciamo il gol. Visto l'inizio che ha compromesso il campionato, la speranza è che questi miglioramenti influiscano nel cammino di Coppa, che ora è diventato l'obiettivo stagionale principale. Vinciamolo. Andiamo là e passiamo il turno, semplicemente. Quindi è più che un obiettivo. Sì, sì, sì. C'è rimasta la Coppa. Puntiamo la Coppa e poi il campionato si vedrà. Ciao!